Bike Show TV, adesso è Talk Show Filippo Pozzato, Filippo Pozzato, oggi è una tappa che ci fai un bel pensierino Più di un pensierino, diciamo che è la tappa che tutti sanno, che voglio far bene, quindi ci provo Avete due corridori in classifica, Scarponi e Nimesh, quindi ci sarà anche a conservare la classifica Però un giro difficile questo, Filippo? Molto difficile, oggi li faccio tirare tutti e due Li fai lavorare per te? Sì, oggi li faccio lavorare per me, che ho già detto, tutti e due C'è la grinta a cattiveria, c'è sempre Sì, sicuramente, abbiamo fatto un buon giro con Michele, non è ancora finito Ci crediamo ancora per la maglia rosa, quindi oggi provo io, ma da domani si ricomincia a lavorare per la classifica con Michele E bocca al lupo, ci fai un saluto Crepi, ciao a tutti Bike Show TV corre anche sul digitale con l'applicazione per iPhone e iPad da scaricare su iTunes Non puoi perderti il meglio di Bike Show TV Rivedi i servizi più belli iscrivendoti al canale di Bike Show su YouTube Frequenta la fanpage Bike Show TV O diventa amico della pagina ufficiale Bike Show O diventa amico della pagina erzäholo anche sul digitale Grazie a tutti.